Deve essere così Vediamo un po' È blu Sì Passa su fifagoin.com e acquista i due crediti a prezzi bassissimi E con il codice Michael 5% di sconto Link in descrizione Se questo video supererà 50.000 mi piace Facciamo la Weekend League con Cristiano Ronaldo Dodi E forse pure Mbappe Dodi Salve a tutti ragazzi e bentornati a MyShow Ci siamo nati su FIFA 22 E sono usciti tutti i Dodi Ma soprattutto lui Cristiano Ronaldo Dodi È una bestia rara Sono uscite anche le Honorable Mansion Quindi quei giocatori che avrebbero meritato un Dodi Ma che non sono nei Dodi Quindi praticamente i fake Dodi Quelli che ci fanno fare lo strillo Non mi sono tagliato la barba Sto sempre vestito con la felpa nera E soprattutto con la bestaglia blu Che ha portato benissimo durante questi Dodi Purtroppo il video di ieri ci ha avuto dei problemi Ho ancora un Dodi da mostrarvi Ma come promesso oggi pacchetterò con Adele E nel momento in cui registro questa intro L'ho già fatto Perché adesso sto aspettando i lighting rounds delle 22 Eh lei dorme a quest'ora quindi Non so Quindi ragazzi lasciate tanti mi piace Penso che questo sia uno degli ultimi video sui Dodi Cioè così spacchettamento Cioè da domani si inizia Preparatevi ragazzi perché stiamo per tornare in live Ma soprattutto ho già Horizon Forbidden West Ah in più ragazzi c'ho anche tutti questi pacchetti E il pacchetto icona Adesso ti insegno a shoppare Forza Adele ci siamo ci siamo ci siamo Dobbiamo trovare quelli blu eh Ah sì da me il titino Primo pacchetto Vedo qui Più o meno dai Suu andiamo si Andiamo a trovare il primo pacchetto Eccolo No è quello falso Holand Holand Ha il primo pacchetto Adele Il primo pacchetto Adele No non c'è il telefono Oddio non c'è il telefono Oh è il primo pacchetto ve lo giuro Ho appena shoppato Brava Adele Al primo pacchetto Ci potremmo fermare qua Godo Questo costa tantissimo Adele Questo costa tantissimo Porca miseria 500.000 Brava Adele Oh il tuo primo pacchetto Ve lo giuro è il tuo pacchetto Brava Però vogliamo il Toti Oh Sta buona Sta buona Ok vai Secondo pacchetto Deve essere blu ragazzi Deve essere blu No Eiffo Va bene lo stesso bosniaco Vabbè Diciamo che sia andata Un po' meno bene eh Però Zeko Me lo prendo Me lo accollo Vabbè ce lo possiamo accollare Ce lo possiamo accollare ragazzi Però non ho svuotato la lista Perché sono idiota Comunque Adele Sei bravissima Bravissima Sììì Ah 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 Ma col ditino di prima Che mi pareva bello sculato Ne apre una papà Vediamo come va È stata toccata da Da cosa blu Mmm E fa schifo Oh l'ho aperto uno io Schifoso Ah eh non può essere Sancho 87 Comunque seppure finisce così Io ho svoltato il video Bravo Bravo amore Dai te Su che blu Su che blu Su che blu Nooo Vabbè è andata troppo bene ATT Harry Kane 90 Ma quanti ne sto trovando Ah ragazzi Nel video di ieri Che è andato un po' così Avevo trovato anche Salah Avevo trovato un sacco di giocatori E ho chiamato Cantona Leroy Però in realtà Il soprannome è The King Però Insomma tantissimi honorable mention Erano usciti Però Mmm Francese chi c'è? Es non so chi c'è Ah Diabì È 86 Buono 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 Se te va te fa il video Pure a te Così se te va Uuuu Dai che l'hai preso tu Eeeh Olandese PC Uh vancazzo Oh te Brava 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 Sta andata bene Sta andata bene Così così Porta bene Porta bene A papà Su che papà Devi trovare un todi Su Mmm Ma quanti ne stanno uscendo Di if Oh si E ce l'ho già trovato però Tony cross No 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 Non credo Se sta a fa Stacca Cacchio Stacca Ferma 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 Intanto una cosa che voi non vedete Ma qua c'ho i cartoni Perché sennò Non c'è se sta mai Stiamo a vedere che cosa La danza Shaggy Oh oh No Italiano PC Ah Il più scarso Bonucci Ammaggio Brava Dele Brava Ah Bonucci Navas Ah raga So che Bonucci non vale niente Sta sui 20.000 Che schifo E poi che peccato raga È tipo il più scarso Di tutti Oddio Di tutti quanti E ha vinto il loro bounce Oggi troppano Vero adè E roppano Guarda qua Spagnolo No TD Alexander Arnold Tutti della Premier League Fateci caso E dammelo sto CR7 Adè lo vuoi CR7 No Adè è troppo impegnata con la musica No manco walk out Ti devi impegnare Adè 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 ti bisogna stare impegnati Ok No vabbè però manco walk out È brutta così eh C'è bisogno di un po' Deve staglia blu Adè C'è bisogno di un po' Deve staglia blu Lo dice Lo dice Federico Lo dice papà Un po' Deve staglia blu Ci può tornare utile Ok No dai Ma no Ma come 84 Dobbiamo trovare quelli blu Questo è il blu Ok Chi è? No Guarda qua questo che è blu No Allison Vabbè 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 Allison Vabbè 89 Ragazzi sta droppando Devo dire sta droppando Mannaggia quel po' Uh pure Shesney Dai 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 che lo troviamo Un altro del Liverpool Non c'è nessuno del Liverpool Ah sì C'è salà No Sergio Ramos Dai Ma tutti che fanno sta cagata Dai se te concentri Fanno qualcosa Sergio Ramos ragazzi Era il DC Aaaaa 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 Spestaglia blu Versaci tu Spestaglia blu Su No No Ziac di nuovo Su Dobbiamo fare questo Su Eeeh Invece Anco walk out Andiamo bene Brozovic Su No 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 Ma che ridi È Sergio Buschera Preso in giro Vole da Vipiglia No Aspetta Fai Vai Deve essere blu Deve essere così Deve essere così Vediamo un po' È blu Sì Sì Vabbè Vabbè Regà Mi si è fermato Un attimo Ho visto Cosa dell'occhio Portoghese Mi si è fermato Il cuore Un attimo Ma lei non lo sa Sì A te Sì 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 Che te ridi Sì Sì Porco due Regà Mi si è fermato Il cuore Davvero Che poi lui Ragazzi È uno di quelli Che magari pensi È il più scarso Di tutti Perché Cioè Questo lo metti A centrocampo Attacco Brava Dele Brava Dele Fammo un attimo De pausa Che qua No No Ancora lui Perché Dove Viene da rite Ormai Dele Pensa a quanti Giocattoli Ti avrei potuto Comprare Con tutti i soldi Che ho speso Facchetti stellari Dopo Facchetti stellari Dopo Brava Dele Brava Guardi il 5 9,5% Di trovare Una menzione D'onore Tantissimo Pure Pure i toti 1,3 Sì Sì Ti prego No La vestaglia blu Con me Questo era buono Era buono Ecco Black O black 91 Cavolo Però 91 Stavamo quasi A qualcosa di grosso E ciotto Niente 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 Italiano DC Guardalo Guardalo A parte Raga Bonucci Vale Meno dei Chiellini Quindi va bene Così Dammelo Adesso Dammelo Buono Ma contento Pure di Niconcina Ma dammelo Forte Dai Su 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 Forte L'ho detto Spagnolo 85 Chi è Oh dai Ci credo Dammo un toti Per favore Ah Francese Portiere Ma vai a cacare Dammelo E dammelo Spagnolo Ma no Esco 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 Regala me l'emozione Mamma Spagnolo Nigeriano CDC Dindì Dindì Non lo voglio guardare Mi metto come sempre Dai che sono tutto blu Forza Vestaglia blu Portami bene Ti prego Ti prego Vestaglia blu No No Mazza Raga Da questi pacchetti salari Non è uscito niente Veramente Lo schifo Eh Unif Walkout Argentino Portiere È il mitico È il grandissimo Lentesma Mazza Solo portiere ho trovato E damme donna Ruma Su no No me lo apro da 2000 Raga Dai non ci credo Dammelo blu Dammelo blu 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 Manco il walkout Dai 2000 No raga Dai l'84 Dai 2000 È veramente vergognoso Please don't trade Is a doom La testa dice Fermate Hai trovato Holland Hai trovato Un todie Hai fatto il video Perfetto Perché Perché ragazzi Sono tossico No Ultimo giro E poi ragazzi Ci avrò Gli upgrade Eccolo Dammelo buono Alaba 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 Forse Non lo so se è buono Oddio Te direi di sì Però non so Perché questi qua ragazzi Spammano a bestia E non te lo so di Vai Lo voglio vedere Lo voglio vedere Dammelo almeno 170k Vabbè Comunque L'abbiamo trovato Forza Terza Terza Anorable Mansion È sotto Niente Vabbè Alaba È pure una bella carta Esteticamente Cioè Pure forte in realtà Adesso il todie Signori di fifa Adesso il todie Back to back Nah Mezzo scarparo E di sancio Pancio Ah Sono finiti ragazzi Sono finiti E allora Io mi apro Gli ultimi Due Questi qui Sperando nel todie Sì David Questo mi piace un sacco Allora Non è Costosissimo Ma è fortissimo Questo qua ragazzi È una carta rottissima Sì Codo 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 Cioè Tra quelli che volevo di più Cioè Ho trovato Olanda e David 100k Precisi Precisi Però questo c'ha 5 debiti debole Madonna Questo è un cane vero Questo è un cane pazzo Questo è un cane pazzo Fammettigli Finisciare Porco giù Da cane pazzo Questo è Bello Bellissimo David Bellissimo David Raga Quasi quasi mi sta venendo Lo schiribizzo De farmi una squadra Con sta gente Oh back to back Avete visto ragazzi Mi dovevo fermare Non ho trovato i due Fammi far bingo 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 proprio Però questo era buono Tedesco Cc No 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 Trashtega Trashtega Non è andata Non è andata male È vero che quelli più forti Me l'ha trovato Adele Tra l'altro Olanda Quando l'abbiamo trovato Stava pure bello alto Mo sta scendendo sempre di più Però va bene lo stesso Mi sta bene È un giocatore Molto molto forte Cioè c'era delle statistiche assurde Anche a livello di agilità e equilibrio Ci potrebbe stare Corre tantissimo Guardate la finalizzazione La freddezza Sarebbe una bella carta da utilizzare Peccato quel 3-3 David Mi piace un sacco Quel 5 piede debole Questa è una busta E poi ragazzi Show how cancello Dai è così Ci sarebbe ancora un Todi Che non vi ho mostrato Perciò sapete che succede ragazzi Io penso che Non so quando Tanto a voi A te Final 4 I Todi stanno qui Io ci voglio provare Farò un po' di upgrade Però insomma riprendiamo A fare pure video normali Ok Quindi tra una cosa e un'altra Vi farò uscire altre cose Lasciate tanti mi piace Soprattutto perché Se questo video Supererà 50.000 mi piace Facciamo la Weekend League Con Cristiano Ronaldo Todi E forse pure Mbappe Todi